Una due giorni molto intensa, quella della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connessa al ciclo dei rifiuti e sui illeciti ambientali ad esse correlati, che ha concluso la sua missione a Salerno svolta con lo scopo di condurre approfondimenti su alcuni temi di inchiesta, il dragaggio dei porti, i traffici illeciti di abiti usati, gli incendi negli impiadi di trattamento e stoccaggio dei rifiuti. La Commissione parlamentare ha dapprima fatto tappa resina vicino ad Ercolano allo storico mercato di indumenti usati e poi si è recata presso il capannone della Taxiless Resiling Import-Export di Cercola, posto sotto sequestro dalla Procura di Nola. Dopo aver scattato foto e sentito alcune persone, la delegazione parlamentare si è poi spostata al porto di Salerno per un sopralluogo nelle aree dove dovrebbero svolgersi le attività del dragaggio dei fondali. Sotto la lente di ingrandimento il dragaggio del porto e la gestione dei sedimenti. In merito la Commissione ha voluto ascoltare il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Giuseppe Menna ed il presidente dell'autorità del sistema portuale del Martirreno centrale Pietro Spirito, che ha riferito in merito alle attività di dragaggio del porto che dovrebbero svolgersi tra novembre e marzo prossimo. Secondo quanto riferito il materiale di escavazione del dragaggio verrà riimmerso in mare in un'area 8 miglia nautica dalla costa per un raggio di 2,5 miglia nautica. Menna invece ha fornito informazioni sul lavoro della Capitaneria di Porto di Salerno nell'ambito dell'attività di dragaggio che la Capitaneria ha il compito di controllare sia per l'opera compatibile che per la struttura portuale di riferimento e poi durante l'esecuzione dei lavori che rispetti poi i requisiti di compatibilità ambientale. Siamo venuti ieri a fare un sovralluogo sia per quanto riguarda due filoni di inchiesta che attengono la nostra Commissione, per quanto riguarda la gestione degli abiti usati, il sequestro che c'è stato dell'impianto, del deposito di stoccaggio degli abiti usati e stiamo iniziando, è la prima volta che la Commissione lo fa, in maniera che riguarda tutto il territorio italiano, la situazione dei dragaggi nei porti, quindi abbiamo iniziato con Salerno, stiamo capendo se le procedure in atto sono regolari e come si stanno poi applicando nella pratica. Salerno ne ha avuto solo uno di dragaggio nel 2004, quindi è giusto che venga effettuato per aumentare i fondali. Rimaniamo un po' perplessi sul fatto che le caratterizzazioni del 2004 e quelle attuali siano le stesse, cioè non c'è stato nessun aumento di inquinamento, ma ripeto, dobbiamo e stiamo acquisendo gli atti per capire effettivamente insomma tutte le procedure e come poi dovranno poi svolgersi nel migliore impatto ambientale possibile. Per quanto riguarda il vostro territorio sulla depurazione delle acque non abbiamo ancora indagato, quindi lo faremo prossimamente. Adesso siamo però ancora agli inizi, stiamo prendendo informazioni per quanto riguarda il porto di Salerno sul dragaggio, quindi ancora è presto, noi siamo venuti qui per prendere delle informazioni, poi lavoreremo, ci confronteremo e poi faremo una relazione finale e la discuteremo insieme anche con voi.